Un vero e proprio ambulatorio medico illegale, quello scoperto dai carabinieri di Napoli a Terzigno, paese del Vesuviano, già protagonista di sequestro di droga nei giorni scorsi. Condizioni igieniche pessime, fra attrezzi non sterilizzati, farmaci privi di ogni provenienza, lettini di fortuna e attrezzature mediche di ogni sorta riposte sui pavimenti, tra le quali apparecchi per l'elettrocardiogramma e per la pressione. Questo è lo scenario sotto gli occhi dei NAS di Napoli, che hanno denunciato a piede libero una cittadina cinese di 38 anni, imputata per esercizio abusivo della professione medica, in missione sul territorio nazionale di farmaci senza autorizzazione e gestione di ambulatorio medico senza autorizzazione sanitaria in una dimora privata. I militari hanno riscontrato condizioni igieniche disumane e al momento dell'irruzione hanno trovato una giovane donna ricoverata, per così dire, su un asdraio con una flebo contenente un pesante farmaco antibiotico, conviccato direttamente nel braccio. Una sola di chissà quanti altri pseudopazienti di questo ambulatorio clandestino. Un piccolo paese, quello di Terzigno, con meno di 18.000 abitanti, che negli ultimi giorni sembra sotto lo scacco di moltiplici illegalità provenienti da ultremare.